Educare, secondo Annibale Merghier di Francia, come sopravvivere in adolescenze, come sopravvivere con un adolescente, la supervisione pedagogica come pratica riflessiva dell'educare. Questi alcuni degli argomenti trattati nell'ambito di un convegno dal titolo Sfide educative nella società di oggi, la risposta pedagogica dell'accoglienza nelle comunità educative, organizzato dalla comunità educativa e la comunità mamma bambino delle figlie del divin zelo di Trani, patrocinato dalla locale amministrazione. La sfida di oggi è proprio quella dell'emergenza educativa, perché la sfida più grande è dare al ragazzo il giusto riconoscimento di persona, oggi in un mondo dove il ragazzo viene cosificato. Perché oggi la realtà sociale non rispetta molto le esigenze dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzi e dei giovani, perché non producono. Oggi siamo in una realtà dove l'uomo vale per quello che appare, per quello che produce. E allora questo convegno vuole sottolineare che l'emergenza educativa è la prima sfida alla quale un mondo, il mondo di oggi, il mondo di Trani, la realtà della Puglia deve poter rispondere. L'esperienza educativa più che centenaria delle figlie del divin zelo si intreccia tuttavia con i cambiamenti della società moderna e con le nuove esigenze dei minori, motivo per cui i professionisti operanti nel settore educativo e sociale sono chiamati a mettersi quotidianamente in discussione per realizzare prassi operative valide per la tutela del bambino e del ragazzo affinché possano diventare gli adulti di domani. Oggi la società non aiuta a crescere, le famiglie non ci sono dietro a queste realtà e quindi il nostro compito educativo è molto difficile però con l'amore, come dice Padre Annibale, ce la mettiamo tutta. Un evento che si propone come momento di riflessione sulle problematiche educative presenti nella nostra società che hanno particolare il riflesso nella fascia adolescenziale. In questo momento raccolgo la sfida che questo convegno sta lanciando di aprirci al territorio per incidere insieme e per lavorare anche non solo a livello di cooperazione operativa ma a livello di programmazione e progettazione per quello che è l'attuazione delle nuove linee del piano sull'infanzia a contatto anche con i tribunali per quanto riguarda fido, adozione, accompagnamento completo alla famiglia.